Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi una partita eccezionale tra Magnus Karzen e Temor Rajabov giocata nel 2007 a tempo lungo nel torneo di Biel. Karzen che nel 2007 aveva 17 anni ha definito la vittoria in questo torneo una delle svolte della sua carriera. Sono contentissimo quindi di mostrarvi questa partita alla quale seguirà una mia intervista molto ricca che verrà pubblicata sul Faro di Roma e della quale devo ringraziare tantissimo il professore giornalista Ciro Di Fiore che mi ha suggerito anche quale torneo andare a commentare e di commentarla direttamente con il nostro Karzen, il sosia giovane naturalmente. Buongiorno Campionissimo, come va? Buongiorno Gabriel, valla grande a me. Grazie mille per questa disponibilità del video. No ma che scherzi di nulla. In che zona della penisola ti trovi? Io mi trovo in Campania. Ah, sei andato a mangiare bene dalla Norvegia, hanno tutti i piatti freddi. Esattamente. Benissimo, quindi partiamo con il video. Magnus Karzen con i pezzi bianchi apre la partita con E4, Rajabov risponde con D6. Arriva D4, cavallo in F6 che attacca il pedone, siamo nella Pirz, e Magnus Karzen lo difende con cavallo in C3. Ma adesso Rajabov, invece di continuare con la tematica G6 e poi al ferro in fianchetto, linea principale della Pirz, spinge il pedone in E5. Spinge il pedone per me, questa difesa, anche se Chessbase continua a chiamare la Pirz, in realtà secondo me è una Philidor e si sta andando verso la variante Hanam. Attenzione perché il cambio dei pedoni e successivamente delle donne non dà granché al bianco, e quindi per questo motivo non è molto giocata. Karzen continua con cavallo in G che va in E2, che è una forte alternativa alla linea principale che sarebbe stata cavallo in F3. E come mai il cavallo in E2? Perché il bianco non vuole farsi inchiodare il cavallo da un possibile alfiere in G4. Rajabov continua con cavallo in B che va in D7, che è caratteristica proprio della variante Hanam. Arriva a G3, quindi per l'alfiere in fianchetto, perché giustamente, vedete, l'alfiere bloccato dal cavallo si vuole portare in G2. Arriva C6, alfiere in G2. B5, supportato dal pedone in C6, per fermare l'espansione del nero sul lato di donna, Karzen giocherà A3 a controllare B4. Alfiere in E7, arrocco corto per il bianco, arrocco corto anche per il nero. Ora, anche se la Filidor ha una brutta reputazione come difesa, non lasciatevi ingannare. Perché vi ricordate il video che abbiamo visto proprio sul canale, quella vittoria eccezionale di Dubov di nero con la Filidor contro Karzen? In questa linea, Anand nel 2009, di bianco, ha perso contro Morosevic in 25 mosse. E non solo lui, tra i grandissimi, ci ha lasciato le penne. Moisenko, per esempio, ha perso contro Karuana nel 2014. È una posizione molto dura da aprire per il bianco e vediamo come ci proverà Magnus Karzen. Arriva H3, questa è la classica idea di controllare questa casa G4 per poter, poi in futuro, possibilmente sviluppare questo alfiere in E3 senza che il cavallo possa saltare in G4 a infastidirlo. Rajabov continua con A5, quindi adesso è chiaro che il suo piano è quello di attaccare il lato di donna. Arriva la spinta G4 che libera questa casa G3 per il salto del cavallo, alfiere in A6. Cavallo in G3, attenzione perché ora si è potuto spostare e si è schiodato da un possibile attacco di scoperta dell'alfiere sulla torre, arriva B4. Sembra che si perda materiale, ma in realtà il cavallo tornando indietro fa da scudo alla torre. Adesso B per A3. Questa B per A3 è stata all'epoca la novità di Rajabov, un'idea velenosissima e tra poco capiremo il perché. Karzen cattura con la torre in A3, ma Rajabov ha fatto questo cambio di pedoni per guadagnare un tempo. Infatti gioca D5 adesso, che apre l'attacco di scoperta dell'alfiere sulla torre e questa torre sotto attacco si deve spostare. Karzen giocherà torre in E3, mossa migliore, ma con la torre in mezzo alla scacchiera sappiamo che bisogna stare attenti. Ora, Magnus, ritorniamo indietro. Gli facciamo vedere qual è l'idea di Rajabov? Che succede se questa torre torna indietro in A1? Vai pure avanti. Perfetto, allora andiamo a vedere che succede. Se la torre torna indietro in A1, cavallo cattura in E4, cavallo per cavallo il pedone ricattura, l'alfiere ricattura in E4 e per D4. Allora attenzione perché il cavallo rimane inchiodato, addirittura il nero in questa posizione si è portato in vantaggio. Se il bianco catturasse con l'alfiere in C6 la partita è praticamente persa. Dopo l'alfiere cattura in C6, torre sotto attacco, ma la torre si sposta in C8. L'alfiere deve tornare in fianchetto, arriva al fiere in B4. Guardate quante minacce. Se è completamente aperta in maniera positiva la posizione del nero, sta per arrivare anche torre in E8. Ci sono troppi bersagli e qui il nero ha tutta l'attività in mano, vincerà sicuramente la partita. Quindi, ritornando a questa D5, quindi questa novità di Rajabov molto pericolosa, perché se Karzen fosse tornato indietro, che sembra anche una mossa naturale, si sarebbe trovato in enormi difficoltà. Torre invece in E3, ora la difficoltà è non farsi intrappolare la torre. D per E4, infatti non ricattura subito Karzen, perché andiamolo a vedere. Adesso se cavallo che cattura in E4, non giocata da Karzen, c'è la solita tematica. Cavallo in D5 attacca la torre, la torre ha poche case dove spostarsi, torre in F3, torre in E8, e di nuovo si ripropone quando il nero aprirà questa colonna E, questa terribile inchiodatura del cavallo che verrà attaccato più di una volta. Quindi ritorniamo a noi, non ricattura subito Karzen, sposta la torre in E1. Quindi schioda il cavallo, il cavallo adesso si può muovere, donna in C7, e questo è un momento molto importante della partita, campionissimo, tu a questo punto cosa hai fatto? A questo punto ovviamente cavallo in F5 contro la coppia degli Alfieri e di conseguenza prende in mano l'iniziativa. Esatto, esatto. Il campione è ancora giovane, 17 anni, con questa mossa, prima di ricatturare il pedone, prende in mano l'iniziativa. Ora c'è un grossissimo problema, anche se il nero non vuole perdere la coppia degli Alfieri, deve portare indietro questo Alfieri, si deve mettere in mezzo alle due torri, quindi disconnetterà le torri. Rajabov è proprio questo che gioca, Alfieri in D8, arriva però la spinta di G5. Cavallo sotto attacco si porta in D5, adesso è il momento di catturare con la torre in E4, torre cattura in E4, arriva F6. Il secondo cavallo salta in G3, arriva anche G6. Cavallo in H6 con scacco, vedete il cavallo non si è voluto spostare indietro, ma invece dà questo scacco. Il re si porta in G7 e adesso la grande intuizione di Karzen, la mossa che spacca la partita. Quindi arriverà D per E5, ora attenzione perché che succede se il cavallo cattura in E5? Andiamo da subito a vedere. Cavallo cattura in E5, questa è una partita dove il giovane Karzen ha calcolato delle varianti incredibili. Con donna in D4, e qui si minaccia di catturare il pedone, potete tutto con scacco e poi di vincere il pezzo. Il cambio donna in questa posizione non funziona, perché guardate dopo donna in B6 di nuovo c'è questa cattura con scacco, riprenderà l'alfiere, ma adesso donna cattura, cavallo ricattura, ma qui casca un pezzo centrale. Torre cattura, alfiere cattura, torre ricattura, due pezzi per una torre e posizione dominante per il bianco. Ma ritorniamo invece a quella donna in D4, sempre in questa linea, che minaccia di catturare il pezzo, non funziona neanche la cattura del pedone, F per G5, perché torre per cavallo, il re sembra ripendersi il pezzo, ma qui arriva H4, una mossa fortissima, per Stockfish è già più 10, perché vedete il re non può tornare indietro, se no arriva il terribile scacco doppio, che naturalmente vince la donna. Allora, ritorniamo a questa partita, questa è la mossa, dicevamo, che spacca la posizione, Rajabov è costretto a giocare F per G5, il cavallo sotto attacco, e Magnus Carlsen ce lo lascia, gioca E6. Ora, qui viene subito in mente di giocare cavallo in F6, che oltretutto arriva con tempo, quindi si prenderebbe il pezzo, ma il nero non può giocarla e non la giocherà, perché Carlsen ha visto una combinazione diabolica, l'ha vista anche fortunatamente per lui, Rajabov, ora questa però va fatta raccontare direttamente al campione. Ovviamente facciamo un cavallo in F6, di conseguenza il nero gioca E7, Alfiere cattura in E7, addirittura protetto due volte, Torre cattura in E7 con scacco Cavallo cattura in E7 Torre cattura a scacco in E7 Donna cattura in E7 Cavallo in F5 con scacco Il tema del ricarico, un difensore non basta a salvare la donna, perché ovviamente c'è il secondo cavallo che prende il posto del primo. Eccezionale, guardate io non capisco, Cattura con il re il cavallo, ma il pedone passato continua nella sua avanzata, arriva E7 E qui di nuovo ci chiederemo, dopo la mossa di Rajabov, come mai il nero non ha catturato il pedone, perché Rajabov continuerà con Donna in B6. Ora, ritorniamo indietro, questa la faccio vedere io velocemente, guardate che succede, Alfiere cattura in E7, Torre cattura, il cavallo ricattura, la Torre cattura, Donna e Torre attaccano il cavallo inchiodato, non basta difenderlo con la Torre, perché arriva Donna in D4 e guardate ci sono due case di matto, perché vedete il cavallo non lo fa muovere, Donna in G7, scacco matto, ma anche Donna in H4, scacco matto, perché il pedone non può catturare la Donna ed è inchiodato. Quindi una partita pazzesca, quindi ritornando a noi, con E7, con questo pedone che avanza, e guardate qui, minaccia di catturare con scacco, no, di catturare e promuovere l'ho tenuto con scacco, arriva Donna in B6, naturalmente il pedone cattura, diventa Donna ed è da scacco, il cavallo lo riprende, arriva C4, cavallo sotto attacco si porta in F4, Donna in D6, vedete che questa donna ha invaso, un'invasione fortissima, perché minaccia di catturare il cavallo con scacco, guardate che il re non si può muovere, e quindi re in G7, il re scappa, si protegge il cavallo, ma di nuovo la Zero è stato costretto a scartare una mossa che gli avrebbe fatto molto comodo. Ritorniamo indietro, come mai Alfiere in C7, che protegge e attacca, non si può giocare? Perché arriverebbe cavallo in F5 con scacco, vedete che il pedone non può catturare il cavallo perché è inchiodato dalla donna, il re è quasi completamente senza case, arriverà re in H5, ma Donna in D1 con scacco, G4, Donna cattura, scacco matto. Questa è una partita di attacco incredibile, che io, vi devo dire la realtà, mi ero perso, e ho ritrovato grazie al professor Di Fiore, quindi ritorniamo indietro, quindi per questo motivo lui è costretto Rajabov a tornare indietro con il re. Allora arriva Alfiere per cavallo in F4, il pedone G ricattura, cavallo sotto attacco, Carzen lo lascia lì, torre in E7 con scacco e la mossa decisiva perché il nero abbandona. C'è il matto forzato, quindi Rajabov lo calcola e abbandona, ma noi giochiamo ancora qualche mossa, qui naturalmente se il re si sposta arriva il matto in pochissime mosse, non si può però prendere la torre, perché dopo Alfiere cattura in E7, torre cattura con scacco, se il re si sposta in H6 arriva la cattura di donna con scacco, re in G8, Donna in E5, non c'è nessuna mossa che possa impedire a questa donna di dare scacco matto in G7. Quindi non c'era più difesa, Rajabov ha abbandonato. Nel 2007, pensate, Carzen aveva solo 17 anni, vedere un ragazzo di 17 anni spezzare uno dei più forti giocatori del mondo con questa facilità è veramente impressionante, quindi lui aveva proprio le stigmate, era proprio un predestinato a diventare il campionissimo, il campione del mondo. Tanti complimenti anche a te che sei il nostro campionissimo e che tutti dicano, mi hanno segnalato, tutti dicano che tu sei il sosia giovane di Carzen, io ti ringrazio tantissimo più che altro per esserci venuto a trovare, mi raccomando, porta avanti questa tua passione per gli scacchi e coinvolgi i più giovani possibile, ora io ti lascio la parola per i saluti finali. Va bene, grazie Grabel, ovviamente non posso fare altro che ringraziare coloro che stanno guardando questo video, ovviamente un ringraziamento speciale anche a te per avermi dato la disponibilità di svolgere questo video e ovviamente anche al professore Ciro Di Fiore che mi ha immerso in questo mondo fantastico degli scacchi. Grazie tanto davvero, per me poi è un piacere anche, io poi amo sempre conoscere persone nuove, questo professor Di Fiore e anche te mi sembrate veramente due persone eccezionali, io quindi sono stato contentissimo. Grazie a tutti per l'ascolto e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!